Allora ciao, allora questa mattina e nel frattempo abbiamo ben due sindacalisti, neanche uno, Pierpaolo Piva, ciao Paolo, Pierpaolo, per i CISL e Mauro Ormelau del sindacato di polizia, FISP, polizia in pratica. Allora io inizierei subito purtroppo, come notizie avete visto anche voi, vi ho mandato un po' di screenshot, un po' di cose, diciamo c'è l'aumento dei contagiati, il governo da oggi c'è l'obbligo della mascherina dappertutto, anche in casa, all'esterno, in casa ovviamente non se sei soli, ma se si ricevono amici, persone, io francamente già da più di qualche giorno che chi arrivava ci mettevamo la mascherina oppure cercavamo di stare ben distanti in pratica, ma ho visto che questa cosa anche in giro, io sapete che la mattina bevo il caffè con la compagnia della soppressa, mi capirete in seguito. Potresti invitare qualche mattina, no? Beh, se volete venire. Fai uno squillo e veniamo. Uno della compagnia è l'ex sindaco vanieri, quindi una compagnia anche diciamo molto simpatica, tutti con la mascherina, tutti quanti, tutti con la mascherina e quindi vorrei sapere da voi appunto, dal vostro angolo visuale, cosa ne pensate? Cominci tu Mauro? Sì, beh, come vuoi Andrea, ciao a tutti e buona giornata. Sì, io sono ovviamente d'accordo sul fatto di utilizzare la mascherina, specialmente in luoghi affollati, sul fatto all'interno dell'abitazione, se si è con i propri familiari, ti dirò, è un po' difficile anche star distanziati, specialmente quando si hanno dei bambini che frequentano anche la scuola. È quasi impossibile star lontani, almeno un metro, quando si fanno le lezioni, i compiti a casa, si aiutano i bambini quando tornano a casa. Poi c'è la problematica appunto dei bambini che frequentano anche le palestre, lo sport. È vero che hanno detto che quando uno fa attività sportiva diciamo intensa non deve mettere la mascherina perché ha bisogno di respirare, però c'è la problematica scuole, palestre, piscine. Non è semplice prendere una decisione in questo senso, però la mascherina quando si è in giro, quando si è sui mezzi pubblici e nel lavoro, anche in ambienti chiusi in particolar modo, penso sia quantomeno opportuna per sé e anche per gli altri, insomma, anche perché da quello che leggevo sembra che siano veramente tantissimi gli asintomatici. Quindi di fatto tantissimi asintomatici che hanno contratto questo covid-19, però non sviluppano nessuna patologia, insomma, quindi raffreddore, tosse, mal di testa, vomito, diarea, non hanno nulla, però sono portatori sani di questo virus. Quindi è bene mantenere la mascherina, tenere ovviamente le mani igienizzate e stare per quanto possibile più distanti da altre persone. Ripeto, in famiglia è difficile, però all'esterno si deve iniziare a comportarsi bene. Avevamo fatto anche con il sindacato di polizia una videoconferenza sulla piattaforma Zoom con un pediatra, Mattia Doria, dottor Mattia Doria qui di Chioggia, dove è stato aperto, insomma, questa videoconferenza è stata aperta a tutti i colleghi iscritti al sindacato e non che hanno figli in età scolare e il pediatra diceva che se tutti utilizzassero bene, diciamo, questa mascherina, che le persone dovrebbero seguire anche il fatto dell'igiene delle mani, pulirsi le mani spesso, igienizzarle, sicuramente andrebbero a diminuire anche le influenze stagionali, le cosiddette influenze stagionali che, ricordo a tutti, dal 12 di ottobre inizieranno anche i vaccini dell'Asda 3, insomma. Quindi pediatri, medici di base, dal 12 di ottobre partirà appunto questa campagna anti-influenzale. Io non ho mai fatto il vaccino anti-influenzale, a parte una volta diversi anni fa, quando sapevo che dovevo andare aggregato per la questione degli sbarchi e in quell'anno è stato il mio anno peggiore per quello che riguarda, diciamo, tossi, raffreddori e cavolate varie, insomma, legate alla stagione, insomma. Quindi da quell'anno ho deciso di non farlo più e per fortuna è sempre andata bene. Quest'anno, sinceramente, sono ancora incerto perché effettivamente con questo Covid il fatto di fare il vaccino anti-influenzale in teoria dovrebbe quantomeno coprire la parte che riguarda appunto quello che è di stagione. Adesso valuterò nei prossimi giorni, cercherò di informarmi ancora meglio. Io non voglio entrare nella questione, nella diatriba pro-vaccini contro i vaccini, è assolutamente la questione di vaccini è una questione assolutamente personale ed è giusto che ognuno prenda le sue decisioni, insomma, in maniera autonoma. Quindi non voglio imporre niente a nessuno, però ricordo appunto questa campagna di vaccinazioni che inizierà il 12 ottobre. In polizia, invece, per noi, io magari ero già pratico usare guanti e mascherine perché essendo la scientifica andiamo a contatto con diversi ambienti e diversi soggetti, quindi per noi era già automatico l'utilizzo di questi DPI, per altri magari no, però vedo che all'interno dei nostri uffici tutti li utilizzano, è stata fatta anche maggiore pulizia all'interno degli uffici che era sicuramente obbligatoria e anche le persone che si recono in commissariato a Chioggia, sono comunque rispettose, rispettano la distanza, comunicano il proprio nominativo quando devono entrare, viene misurata la temperatura, gli ingressi, quindi al momento non registriamo momenti di difficoltà all'interno del commissariato. Un saluto, scusate. Buongiorno, ciao a tutti. Buongiorno. Penso che comunque gli italiani, ma adesso siamo qui a Chioggia Azzura, i chioggiotti siano un popolo comunque educato e rispettoso e nel dubbio, ripeto, mascherina, igienizzante le mani, specialmente anche quando si va nei supermercati, visto che in diversi supermercati hanno anche il disinfettante con la carta scotex da pulire praticamente il carrello della spesa dove tu metti poi le mani, insomma, ecco. Magari più anziani consiglierei anche un paio di guanti in lattice o in nitrile, così sono tranquilli e possono utilizzare anche il carrello in maniera, insomma, più sicura, ecco. Questa è la situazione per quanto mi riguarda. Pia Paolo, tu che hai anche una visione più provinciale, visto che sei soprattutto con la tua attività di sindacalista anche nel resto della provincia? Ma, diciamo, da oggi, come dicevi tu, entra in vigore l'obbligo della mascherina. Io, devo dire la verità, fino a ieri, in giro per la provincia e non solo, non ho visto ancora gente con la mascherina, questo molto probabilmente perché la gente si deve ancora abituare alla mascherina all'aperto. Però credo che si abituerà e si deve abituare, perché abbiamo una parabola ormai in ascesa per quanto riguarda il numero dei contagi e credo che l'uso della mascherina sia opportuno. Soprattutto, come diceva Mauro prima, essendoci tanti asintomatici, uno può andare in giro e non accorgersi di avere il virus e quindi a rischio contagio nei confronti degli altri. Quindi la mascherina sicuramente non garantisce il 100%, se sia chiaro, ma protegge comunque abbastanza bene l'individuo rispetto agli altri. La fortuna è che adesso si fanno più tamponi, ci sono sicuramente più controlli. Il virus fortunatamente non è mutato o muta molto poco, quindi è anche vero che tutti quelli che hanno contratto il virus a primavera è meno probabile che lo riprendano. Meno probabile non vuol dire improbabile, ma comunque meno probabile che lo riprendano proprio perché tanti lo hanno già preso alla prima tornata. Però bisogna sempre tenere la guardia alta, bisogna sempre stare attenti, proprio perché non possiamo, l'Italia non può più permettersi un altro lockdown come quello che c'è stato a marzo. Bene che i ristoranti non chiudano, anche se c'è la chiusura anticipata, ma comunque non chiudano, perché veramente per questo settore sarebbe stata la fine. Ripeto, anche perché sarebbe stato un po' contraddittorio, chiudiamo i ristoranti, chiudiamo le palestre e lasciamo aperte le scuole, perché anche là c'è da fare, dopo magari affronteremo il discorso, c'è da fare tutto un discorso particolare. Quindi l'Italia oggi non può permettersi, il sistema, il paese Italia non può permettersi un'altra chiusura perché proprio veramente sarebbe difficile rialzarsi. Quindi bene far prevenzione, bene l'uso delle mascherine per evitare che a Natale ci troviamo nella stessa situazione della primavera scorsa. Anche se i segnali che vengono sia dai virologi, sia dai dati oggettivi, sembrano, usiamo le virgolette, come dire, più positivi rispetto a quanto è successo qualche mese fa. Però mai abbassare la guardia, quindi è giusto usare la mascherina, usare i detergenti, non so, ho qualche perplessità sull'uso della mascherina in casa con i familiari, non tanto con i familiari, ma con gli amici, insomma. Lì vabbè, sono un po' perpreso, non so, quanti riusciranno a tenersi da sé. Alla sera ti viene a trovare qualche amico a casa. Però sicuramente all'aperto e nei luoghi interni è giusto indossarlo. Achille, tu all'estero hai visto qualcosa, come dici, qualcosa sull'estero? Ah, stasera vado in Lussemburgo, quindi ve lo dirò domani mattina. Ecco, diciamo che all'estero la situazione è ben peggiore che in Italia. In Scozia si va verso un mini lockdown, in Inghilterra i casi crescono e stanotte Pence e Kamala Harris si sono scontrati proprio sul virus e sul vaccino. Pence ha accusato la Harris di far politica sulla pelle della gente e di non credere nel vaccino, la Kamala Harris, che ha risposto pacchettamente, che ci crederà quando lo dirà Anthony Fauci e quando il vaccino sarà pronto. Io, come dicevo ieri, parlavo con una ricercatrice abbastanza importante dell'Università di Roma, del Tor Vergata, che diceva che ci sono pronti 230 vaccini e 35 già nella fase 3. Diciamo che la situazione evolve verso una maggior tranquillità, ecco, delle cose. Il dato sul virus è che non vengono più ospedalizzati i malati di virus. La domanda è, ci sono scappati nella prima ondata, quindi siamo semplicemente più bravi a rilevarli ed è per questo che abbiamo una percentuale di positivi asintomatici che nella prima ondata della primavera di quest'anno semplicemente non venivano censiti. Potrebbe anche essere. Io la vedo così, ecco. Ieri c'è stato uno sciopero a Venezia, uno sciopero forte per quanto riguarda la partolarità, ne abbiamo parlato, abbiamo ripreso anche sul nostro telegiornale con immagini alla Venezia. Abbiamo visto che per domani è previsto un altro sciopero. Vi avevo mandato anche un articolo che per quanto riguarda i contratti degli alimentaristi, praticamente, perché c'è una situazione abbastanza, diciamo, particolare e anche sui consumi che sentivo un attimo, ho sentito uno sprazzone di radio ieri per strada che sembra che ci sia stato un aumento dei consumi e quindi su questo, per Paolo, che forse è il tuo pane quotidiano, visto che tu, come Fai Cisle, sei anche nel settore agricolo? Sì, noi come Fai Cisle seguiamo tutta la filiera agroalimentare, pertanto abbiamo seguito sia a livello nazionale anche il contratto dell'industria alimentare. Parliamo di 500.000 lavoratori in tutta Italia. Parliamo di un settore che durante il periodo del lockdown è stato uno di quei pochi settori, non l'unico, ma uno di quei pochi settori che ha lavorato e che ha fatto in modo che durante la chiusura in casa avessimo quantomeno, come dire, il cibo perché altrimenti se l'industria alimentare non lavorava molto probabilmente stavano in casa e anche senza cibo. Un settore made in Italy che fortunatamente rispetto agli altri è un settore che va bene. Paradossalmente rispetto al lockdown, durante il lockdown, quando tante aziende chiudevano o meglio utilizzavano gli ammortizzatori sociali, aziende dell'industria alimentare lavoravano e io posso testimoniare con alcune aziende, abbiamo stipulato anche degli accordi di secondo livello, quindi premiando in quei lavoratori che lavoravano perché comunque c'era più fatturato. Quindi un settore che funziona, un settore che è un po' la locomotiva di tutti gli altri settori, non riesce a chiudere un contratto, un contratto scaduto l'anno scorso, per motivi diciamo incomprensibili da parte di Federa Alimentale. Perché una differenza salariale di 13 euro che partirebbe non da domani ma dal 2023, per questa differenza non si riesce a chiudere. I motivi per noi, per Fai, Flai e Huila, sono incomprensibili perché se ci sono delle dinamiche interne dentro Federa Alimentare non può rimanere con il cerino in mano il lavoratore, che ripeto è un lavoratore che durante il periodo di chiusura ha lavorato. Proprio per questo abbiamo dal 31 luglio, noi abbiamo sottoscritto un contratto che è stato firmato soltanto da tre federazioni di Federa Alimentare su 13. Quindi vuol dire un quarto rispetto alle 13 federazioni di Federa Alimentare, perché Federa Alimentare è costituita da varie federazioni in base al settore, Federvini, Assolatte, Mineralacque, Assocarni, no. Quindi tre su 13 federazioni hanno firmato il contatto, gli altri non l'hanno firmato. È chiaro che questo non va assolutamente bene ed è per questo che a partire da domani abbiamo organizzato quattro ore di sciopero, nonché il blocco della flessibilità e degli straordinari. Proprio per far capire appunto... Cosa vuol dire, scusami, il blocco della flessibilità? Abbiamo praticamente tutti gli straordinari che sono previsti, vengono praticamente bloccati e quindi quando l'azienda chiede al lavoratore di fare lo straordinario, il lavoratore non lo fa. Così domani sarà indetto appunto questo sciopero di quattro ore. È chiaro che se non ci si ritrova al tavolo e si chiude questo contratto, le iniziative di stato di agitazione e quindi blocco degli straordinari e di sciopero continueranno anche nei giorni a venire. Proprio per il rispetto di quei lavoratori che ogni giorno si alzano, vanno a lavorare e anche durante il periodo che era tutto chiuso lo facevano e facevano in modo che il cibo arrivasse nelle nostre case. Ripeto, se un settore come l'alimentare non riesce a chiudere il contratto collettivo nazionale, quindi un settore che sta andando bene, non oso immaginare gli altri settori quando chiuderanno i contratti. E ne è dimostrazione, insomma, basta vedere, insomma, gli altri settori i contratti non li rinnovano. E allora si parla tanto di ripartenza, si dice tanto che il paese deve ripartire, no? Ma se la ripartenza non avviene dal contratto, non avviene dal lavoro, quando e come ripartiamo? Quando e come facciamo ripartire questo paese? Che non riusciamo a chiudere neanche un contratto di un settore che sta andando bene? Ecco, queste sono un po' le nostre perplessità e il motivo per cui da domani faremo, appunto, le nostre quattro ore di sciopero, nonché il blocco degli statunitari. Direi che però è una strategia che sta portando avanti i buonomi, quella di non sottoscrivere più i contratti collettivi. Ne fanno le spese per primi quelli della federa alimentare. Diciamo che è una nuova fase dove Confindustria sta cercando, con il suo presidente, di ritagliarsi un ruolo anche su queste cose, perché credo che i motivi per la non firma del contratto siano proprio banali e irrisibili, ecco. Per di più per un settore che ha sorportato più di tutti gli altri il peso del lockdown continuando a lavorare. Non dimentichiamo i focolai nei macelli, ecco, che erano uno dei punti dove i lavoratori erano più esposti a rischio. Tutto qui. Sì, infatti, quando io dico che i motivi sono incomprensibili, è là che voglio andare a fare. Nel senso che le motivazioni sono prettamente politiche, insomma, no? E quindi, sai, ci possono essere quante motivazioni politiche che vuoi, ma non può essere il lavoratore a pagare questo tipo di dinamiche. Visto che stiamo parlando un po' di rivendicazioni così salariali, appunto, di diritti dei lavoratori. Mauro, tu tante volte sei appunto sindacato di polizia e già, se non sbaglio, ieri ci hai mandato, abbiamo pubblicato un tuo comunicato per quanto riguarda, diciamo, il commissariato proprio di Chioggia, che è assolutamente sguarnito. Io stesso ho, tra l'altro, una pratica che sono settimane che andiamo avanti per quella aggressione che ho avuto ancora tempo fa, ma non voglio lamentarmi assolutamente, adesso mancherebbe altro, ma però i casi di violenza, tra l'altro, che c'è necessità, anche ieri abbiamo, sulle pagine di Chioggia Azzurra, abbiamo denunciato un'ennesima rissa che c'è stata a Sottomarina, sembra quasi che... ma voglio dire, questa mancanza così cronica di personale, cioè, sulla Chioggia o è anche nel resto della provincia? No, è generalizzata in tutta Italia ormai la carenza degli organici, però a Chioggia chiaramente è un commissariato distaccato, quindi distante, diciamo, 50 km della Questura, si sente di più, ma stesso problema lo ha Jesolo, lo ha anche Portogruaro. Le squadre di volante sono cinque, in ogni squadra c'erano quattro agenti, adesso abbiamo quattro squadre su cinque con tre agenti solo, quindi uno fa il piantone e gli altri due escono in macchina. È chiaro che se c'è una malattia, un permesso, i giorni di ferie e così, è chiaro che con due persone non si riesce a garantire la volante. Giocoforza si è costretti a chiamare la gente che è negli uffici, che ripeto che non si sta grattando, ma sta si facendo altre mansioni burocratiche, mi riferisco tipo all'ufficio immigrazione, all'ufficio passaporti, all'ufficio denunce, all'anticrimine, l'anticrimine sono gli uomini che poi ogni tanto leggete, che fanno gli arresti per spaccio di stupefacenti, quindi ripeto, tutto questo personale serve anche per tamponare i buchi che ci sono all'interno delle squadre di volante. Per questo abbiamo denunciato questa situazione, perché quest'estate abbiamo assistito che il questore di Venezia ha mandato colleghi di Venezia aggregati su Jesolo e Chioggia, alla pari di Jesolo, che non aveva avuto nessun aggregato per il periodo estivo mandato dal Ministero dell'Interno, non ha avuto nessun aggregato da Venezia, quindi abbiamo denunciato questa diversità di attenzione che c'è stata da parte della questura e del questore nei confronti della nostra città, perché al di là del commissariato di Chioggia, io mi riferisco sempre a città di Chioggia, cittadini di Chioggia che devono pretendere e hanno diritto ad avere sicurezza. È chiaro che avere dei turni che rischiano di rimanere scoperti dalla volante non è comunque una cosa facile da gestire in caso di richiesti di intervento, perché non hai la volante da mandare al cittadino che chiede aiuto. Ecco, questo è quello che denuncia. Un sindacato di polizia, come Pierpaolo mi insegna, dovrebbe tutelare i lavoratori della Polizia di Stato, gli agenti, i professionisti della sicurezza. Ma sempre più spesso, ormai come sindacato, ci troviamo non solo a tutelare gli agenti della Polizia di Stato, ma ci troviamo a denunciare carenze che la nostra amministrazione ha. Quindi non dovrebbe essere il nostro compito quello di denunciare le carenze, perché noi denunciamo le carenze perché ci rivolgiamo la cittadinanza dicendo che non riusciamo a svolgere al meglio il nostro lavoro a causa di queste problematiche. La politica faccia qualcosa. A Chioggia noi abbiamo chiesto a quest'ora chiaramente 5 agenti, uno per ogni squadra, tanto da riportare le squadre a 4 elementi, così da garantire H24 la volante della Polizia di Stato. Per noi è assurda questa situazione, per la seconda città della nostra provincia di Venezia non merita questa disattenzione da parte dei vertici Veneziani e anche dello stesso governo e Ministero di Roma. Invidio, invidio Pierpaolo perché parla di sciopero. Noi sappiamo benissimo tutti che non possiamo superare, magari anche giustamente. Quando si parla di rinnovi di contratto, visto che anche il nostro è scaduto, spero che anche la parte normativa sia cambiata, perché è vero che è importantissima la parte economica, perché è quella che ti fa vivere il lavoratore con i soldi e lo stipendio. Però anche la parte normativa è importantissima. Poter svincolare, poter sdoganare la Polizia di Stato dal fatto di poter fare sciopero, e non dico sciopero dei colleghi che sono all'anticrimine o alle volanti, che potessero fare sciopero quantomeno i poliziotti che lavorano negli uffici burocratici. Allora, solo così probabilmente avremo più attenzioni da parte delle istituzioni, parlo dei politici che sono a Roma. Chiaro che non è colpa del sindaco o magari anche colpa, tra virgolette, dello stesso questore in certi casi. Ma, ripeto, la possibilità di poter fare sciopero e di bloccare magari un ufficio passaporti, per quanto possa dar fastidio, bloccare un ufficio passaporti, un ufficio immigrazione, la mattina il cittadino va e si reca, si crea chiaramente un disservizio e questo dispiace. Però sarebbe forse l'unico modo per poter essere ascoltati in maniera seria dai politici. E ringrazio per Paolo perché mi ha dato un assist. In tempo di lockdown, non so se l'avevo già detto una mattina qui durante quella rassegna stampa, avevamo fatto una locandina, noi come sindacato di polizia l'abbiamo distribuita in tutta Italia, dove avevamo messo una squadra di calcio in campo, in attacco avevamo visto i medici, gli infermieri, gli operatori di socio, gli osso praticamente, che lavoravano in ospedale, che erano in prima linea veramente in questa emergenza, a fronteggiare questa emergenza. In centro campo avevamo previsto anche il camionista, il corriere, diciamo, quello che garantiva il rifornimento nei nostri supermercati e avevamo messo anche la commessa, anche la ragazza che lavora nei supermercati, perché grazie a Dio i supermercati sono rimasti aperti e come dice appunto Pierpaolo siamo stati anche tra virgolette fortunati ad avere comunque la nostra verdura, la nostra frutta e i nostri alimentari sulle tavole. C'era da fare un po' di colonna prima di entrare nel supermercato, però in quella locandina, ripeto, ci siamo sentiti in dovere di ringraziare tutte le categorie che lavoravano in tempo di lockdown e che hanno garantito veramente anche sostentamento a tante famiglie. I primi fra tutti proprio c'erano i corrieri, insomma, che io non voglio fare pubblicità a nessun supermercato, però sappiamo benissimo che ormai si sta allargando anche il mondo del commercio, diciamo, elettronico che arriva a casa del corriere e ti porta anche a casa la spesa, sia congelata da frigo che, diciamo, la pasta, l'olio e il riso, insomma. Ecco, quindi mi ricordo benissimo questo periodo, mi auguro anch'io che non ci sia un altro lockdown, perché se no le forze dell'ordine sarebbero costrette, già ora si sta vigilando sull'utilizzo regolare della mascherina appunto da oggi, ma saremo costretti a ritornare sulle strade in maniera più massiccia, perché chiudendo anche gli uffici burocratici della polizia come di altri uffici, è chiaro che i poliziotti non è che rimanevano nell'ufficio a guardare il soffitto, perché se non ci sono utenze non c'è, tra virgolette, sia zera quasi il lavoro interno, ma uscivano in macchina per far rispettare i vari DPCM che uscivano dalla presidenza del Consiglio dei Ministri. Però abbiamo avuto anche tanti attacchi, anche tanti attacchi dai cittadini che si lamentavano dei nostri controlli. E purtroppo la polizia deve fare questo compito, ha questo ruolo, questo compito, cerca di svolgerlo al meglio, però un nuovo lockdown porterebbe sicuramente a far iniziare ancora gli attacchi nei confronti delle forze dell'ordine che sono chiamate a far rispettare le varie ordinanze, i vari decreti legge. Posso farti una domanda scomoda, visto che come giudici la vicenda del Comune di Carbone, dove i poliziotti prendevano l'aspettativa retribuita per candidarsi in comuni microscopici e poi una volta elettrici li mettevano immediatamente. Assolutamente è un comportamento da condannare. Guarda, stai parlando, ti dico insomma che ho 15 anni di esperienza politica attiva nel Comune di Spinea, che è il mio Comune di provenienza. Ho fatto 5 anni d'assessore e per 10 anni il consigliere comunale di opposizione. Io mi sono candidato a partire dal 2004 e per 15 anni, ripeto, ho svolto un ruolo politico nel Comune di Spinea, perché era il mio Comune, conoscevo quindi gente, però nello stesso tempo non era incompatibile perché da Chioggia non avevo competenza territoriale su Spinea, quindi non ho rischiato il trasferimento da Chioggia. Però questi colleghi che fanno i furbetti, utilizzando questa aspettativa speciale per campagna elettorale retribuita, chiaramente non hai straordinari, non hai servizi esteri, non hai tutte quelle indenità che hai o che avresti svolgendo il tuo lavoro quotidianamente, però è chiaro che è un giochetto che in qualche modo, cambiando la norma, dovrebbe comunque cambiare. È logico che non, tra virgolette, io adesso ho altri due colleghi iscritti al sindacato che si sono candidati in un Comune, uno in Abruzzo, dove abita, e un altro in provincia di Pordenone, sono stati eletti e adesso loro chiederanno il trasferimento, un'assegnazione quantomeno temporanea, per svolgere al meglio il proprio mandato politico e quindi verranno trasferiti o assegnati provvisoriamente in un commissariato, in un ufficio di polizia, il più vicino possibile al Comune dove hanno il loro mandato. Però loro si sono candidati, sono stati eletti e adesso andranno a fare i consiglieri comunali. Ripeto, un comportamento da condannare, è chiaro che la norma lo prevede, quindi la norma prevede che tu ti possa candidare, hai questi un po' meno di 30 giorni di aspettativa speciale, ripeto, per campagna elettorale e poi rientri, sei praticamente in aspettativa fino alla mezzanotte del venerdì che poi è antecedente alle elezioni della domenica. Ecco, è chiaro che questi comportamenti non giovano la nostra categoria, anzi aumentano le critiche nei confronti dell'apparato statale, comunque del dipendente statale. Purtroppo ci sono, li hanno scoperti, però se questa cosa dura da anni, non c'è una norma che preveda che tu non possa dare l'aspettativa a queste persone che si candidano. Quando c'è un'accettazione di candidatura, quando la lista dove questa persona si è candidata viene accettata, questo è posto in automatico in aspettativa speciale per campagna elettorale. Però, ripeto, io condanno questo comportamento perché nuoce ai tanti poliziotti che vogliono impegnarsi anche in politica, magari anche in un comune, diciamo, di provenienza, da dove provengono e poi in attesa anche dell'avvicinamento per poter svolgere meglio il loro mandato. Io sono contrario a questa cosa. In qualche modo si dovrebbe trovare una norma o cambiare qualcosa che obblighi, quando c'è stata, quando c'è un'elezione, in particolar modo, di rimanere. Perché questi, l'assurdo, è che sono stati eletti e si sono dimessi il giorno dopo. E l'assurdo è proprio anche nei programmi, quando erano previsti nei programmi, che ne so, un ospedale e più soldi per le scuole, e magari in quei comuni non c'erano neanche le scuole. Questa è palese che la lista è una lista fasulla, che non dovrebbe nemmeno essere accettata, insomma. Eh, lo so, è una stortura. Vorrei portare l'attenzione sull'articolo che c'è oggi e l'intervista a Leonardo Del Vecchio, che è comunque un imprenditore veneto, che ha scalato le classifiche mondiali nel suo settore e anche quelle di Forbes. Ha messo in queste due società, che sono sempre state il salotto buono della finanza italiana. Diciamo che, al di là che piaccio meno l'imprenditore Del Vecchio, che non ha senza altro un carattere facile, l'operazione riporta l'Italia al centro della finanza europea. Ultimamente eravamo un po' succubi, Del Vecchio è riuscito a raddoppiare con la fusione della sua luxottica con la società francese degli occhiali e in questo momento sta portando avanti quella che era la Mediobanca di Enrico Cuccia. Non so se per tanti dice qualcosa questo nome, ma è stato il punto di snodo di tutte le vicende finanziarie italiane della fine del secolo scorso, diciamo dagli anni 50 in poi. Non fosse altro per la rivalità fortissima a Enrico Cuccia e Michele Sindona, due siciliani tutti e due, e alla fine si è visto che aveva ragione Cuccia. Tu Andrea, la ricordi come figura quella di Mediobanca di Cuccia? Hai l'articolo da farci vedere? No, non ce l'ho, ma comunque me la ricordo. Andrea, mi senti? Sì, io ti sento, sì, ti sento. Sì, diciamo che del vecchio finanziato da Unicredit e Banca Intesa sta portando la scalata a Mediobanca. Mediobanca era la banca d'affare italiana fondata appunto da Enrico Cuccia sull'input di Matteoli che era allora il presidente dell'IRI. Cuccia aveva sposato la figlia di Beneduce che era un importante dirigente del periodo del ventennio. La figlia di Beneduce, una curiosità, si chiamava nuova idea socialista. Forse adesso che dai un nome così a una figlia probabilmente ti disconosce come padre, ma allora le cose funzionavano in questo modo. Cuccia era famoso per aver salvato ad esempio la Fiat mettendo Romiti a fianco di Agnelli e Romiti che è mancato nelle settimane scorse. Volevo sentire per chiudere... Questo è un articolo... Scusami, visto che mancano pochi minuti per chiudere, volevo sentire, Pierpaolo, c'è un altro tema di carattere nazionale. Giusto, Pierpaolo? Sì, no, giusto. Più che altro per chiudere un po', visto tutte le cose che sono emerse da... Io credo che ci deve essere in questo periodo... E attenzione, non siamo nel post-Covid, non siamo nell'epoca post-Covid, siamo nell'epoca Covid ancora, sottolineiamo, non è che siamo fuori. E proprio per questo ci deve essere un maggior dialogo tra istituzioni, tra impresa e parti sociali. Ora, questo dialogo, soprattutto con le parti sociali, da parte del governo, non c'è stato, c'è stato molto poco. E anche con l'impresa, si parlava prima, no, di Bonomi, no, che ha difficoltà, che non vuole rinnovare i contratti. Allora, quando si fa un accordo, quando si fa un patto, ognuno deve lasciare qualcosa. Io credo che il sindacato, le parti sociali, un passo avanti l'abbiano fatto. Ora, ci aspettiamo che anche gli altri facciano un passo avanti. Cioè, noi dobbiamo, per esempio, con il governo, il governo deve imparare a gestire, per esempio, i recovery fund, deve investire in crescita e lavoro. Dobbiamo imparare ad utilizzare i fondi europei. La Francia ha già presentato un piano e noi cosa aspettiamo? Cosa aspettiamo a presentare un piano di rilancio? Investire sulla ricerca, sulla formazione. Pensiamo alle competenze professionali che mancano in questo paese. Non ci sono insegnanti. Si fa fatica a trovare insegnanti perché non si vuole investire sulla formazione o su altre competenze professionali all'interno delle aziende, sulla digitalizzazione, sulla ricerca. Ecco, se non partiamo da questi, se non partiamo da un patto, un contratto, in senso generale, tra questi tre attori protagonisti, istituzioni, confindustria e parti sociali, non ne veniamo fuori. Quindi serve necessariamente questo accordo tra questi tre attori protagonisti. Scusate un attimo, vi saluto tutti perché io alle 7 inizio a lavorare. Mi metto le scarpe e scappo a lavoro. Grazie a tutti, buona giornata, saluti all'amico che è all'estero. Mi raccomando, ci tenga giornato sulla situazione Covid all'estero. Va bene. Vorrei chiudere sul premio Nobel che è stato qui, ha segnato due donne. In tutta la storia del premio Nobel è stato dato solo cinque volte a una donna e per due volte l'hanno vinto la nostra Marie Curie e la figlia. Questa volta il premio è andato a Emmanuel Charpentier che è una francese e Jennifer Dunnat per i loro studi sulla ricombinazione del DNA. In pratica ci hanno insegnato a tagliare dei pezzi di DNA e sostituirli con qualcosa che ci serve per sviluppare nuovi farmaci oppure per correggere difetti genetici. Quindi direi che è un premio Nobel importante e ricordiamolo visto che lo abbiamo vinto il premio Nobel italiano per la chimica del 1963 dato a Giulio Natta per l'invenzione della plastica. Ecco, vorrei chiudere con questo ricordo e le mie congratulazioni a queste due donne che si sono divise il Nobel per la chimica quest'anno. Grazie, grazie Achille. Molto bella questa chiusura di rassegna. chiudiamo perché siamo proprio in chiusura. Va bene. Ciao a tutti, buona giornata. Grazie per la partecipazione. Ciao. Alla prossima. Ciao.